A cuore Ringraziamento a Pino Barco, ringraziamento a Enzo, a Cosimo, ringraziamento a Andrea, grazie di cuore, siete meravigliosi, io vi voglio tanto bene, il Toronto è la mia seconda mattina, va bene, grazie, grazie, vi abbraccio tutti Grazie, 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 grazie amici, grazie, siete troppo buoni, non merito tutto questo entusiasmo, grazie, grazie Gianni Dobbiamo ricordare che abbiamo parlato poco fa e tu hai accettato l'offerta e dobbiamo ricordare che potrete applaudire Narciso Parigi domenica prossima in una cena e ballo in una serata meravigliosa all'Holiday Princess, all'Hollywood Princess, una sala meravigliosa Ci sarai te con tuo figlio, il maestro Pino Barco, c'è anche Gianni e ci saranno i vincitori dell'Italian Song Festival di questa sera Ah ma volevo dirvi una cosa, posso? Io questa sera ho sentito cantare della gente qua che vi giuro che prima di venire sul palco scenico l'ho detto a Nick e l'ho detto ad altri amici, avevo paura Perché ragazzi, stasera c'era della gente qua che cantavano molto bene e poi quel tenore e quella soprano, ma come si fa? Ma te sei un bigliacco Gianni, mi hai fatto cantare dopo quel soprano e quel tenore? Ma sai che quelli sono delle canonate, ma hai sentito come cantano? Tu sei come il vino! Tu sei come il vino! Guarda, bisogna smettere perché il vino nell'invecchiare poi diventa aceto No, 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 se invecchia male però se invecchia male Eh, ma non è più buono Domenica che avviene, questa domenica che avviene al Hollywood Princess, tu hai accettato stamattina Tu figlio Pino Ubaldo E poi ci stai Seven course dinner E si balla anche E si balla pure penso Si 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 baga Si mangi, si beve, si balla E è un grande divertimento Questa domenica Cominciando alle sette Alle sette di sera Ricordate potete chiamare la Cina sono andati via ragazzi ah sono già andati via niente, niente, niente perché avevo una sorpresa per Toronto ma la facciamo domenica grazie, amici arrivederci a tutti e buona fortuna grazie grazie, un applauso ancora a Narciso Parigi thank you sono silato che fai che fai io vengo con te perché adesso lasciamo il compito a Gianni Lombardi per la presentazione dei vincitori dell'Italian Song Festival il microfono Gianni, grazie è un saluto a Narciso ancora we'll see him next Sunday night at Hollywood Princess Hollywood Princess thank you Nico Nico Navarro, thank you and now we begin the awards presentation of the 1991 Canadian Italian Song Festival can I have Lenny up here at the podium to give me a hand with the awards presentations ok come on up here and how about John Vinson will you bring up the check John Vinson John Vinson will you bring up the check please attaboy there's John Vinson Lombardi bringing up the check will you hold it up will you hold it up so everybody can see it hold it up hold it up hold it up we got all the trophies up here Bruce now I'd like to call up Mel Shaw chairman of the Song Festival judging panel to join us on stage for the awards presentation he's the man with the winner's names ok and Jenny here has all the trophies so remember the first prize winner hold up the check John Vinson this is the first prize winner wins a thousand dollars cash second prize winner is seven hundred and fifty dollars cash five